Ecco a voi un nuovo trailer! Ehm, secondo te quello è un problema? Eccolo lì! Un gigantesco asteroide sta precipitando verso di noi! Vi dispiace? Quest'anno! Rischiamo l'estinzione, Buck! Non temere! La chiave è in questa tavola! Andiamo sul luogo della collisione, cerchiamo indizi e decidiamo se evacuare! Chi è così stupido da pensare di poter evacuare? Crash è di poter evacuare! In bagno! La fine dell'era glaciale! Voi cercate di salvare la pelle e noi voliamo verso le stelle! Sicuri come quegli uccelli! Una casualità! Poveri noi! È solo l'inizio! Cos'è questo posto? Geotopia! Di una nuova era! Il segreto per salvare il mondo è qui! Shangri-Lama, illuminaci! Sì, ma prima... Cane a testa in giù! Ballo del cocua! Mila saltanti! Corre di patate! Aiutami ti prego! Poi lascio pericolamente vicino al sedere! Dalla 20th Century Fox e Blue Sky Studios! Facciamolo! Loro sarebbero quelli che salveranno il mondo? Siamo fichissimi! Tipo i ninja! Non sapevo che la sfiga fosse una strategia! Il capitolo di svolta! Abbiamo i superpoteri! Della più grande criologia di tutti i tempi! Sei le pulchi delle mie acelle! Le occhi dei miei occhi! Ho le farfalle nella pancia! Ho la nausea! Largo i miei mammiferi! Non funzionerà! Tenetevi pronti! Fermiamo quel coso! Bada bim! Bada boom! Lo dovevo dire boom! L'era glaciale in rotta di collisione! Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al nono posto i Magnifici 7! All'ottavo posto The Nice Guys! Al settimo posto Lego Batman! Al sesto posto The Neon Demon! Al quinto posto Ghostbusters! Al quarto posto Doctor Strange! Al terzo posto Assassin's Creed! Al secondo posto Rogue One a Star Wars Story! E al primo posto ancora lui Suicide Squad! Questa è la classifica attuale! Per scoprire se questo trailer entrerà in classifica ci vediamo sabato alle ore 13! Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito blog.screenweek.it Ciao!